La mole di lavoro che caratterizza ormai da mesi i laboratori di virologia spinge il direttore del reparto degli ospedali riuniti di Ancona a tornare sulle decisioni che hanno modificato il tracciamento. Lo stesso professore, sempre molto efficace nei suoi interventi, non tralascia di sottolineare che sarebbe stato importante metterci più coraggio. La mole di lavoro che facciamo nei laboratori naturalmente è diventata molto onerosa, soprattutto nelle ultime settimane, ma io penso anche alla mole di lavoro dei colleghi che lavorano sul territorio, che devono fare tutti questi tamponi, quindi devono avere anche un sistema organizzativo che adesso era diventato insostenibile. Quindi ben venga questa decisione, si poteva anche con più coraggio decidere, come hanno fatto quasi tutti gli altri paesi europei, di stabilire un termine fisso. La Francia ha sette giorni, la Spagna ha sette giorni, gli Stati Uniti addirittura cinque giorni di isolamento poi automaticamente decadeva. Secondo il professor Menzo, adesso l'Italia è rientrata nella giusta direzione perché il sistema non era più sostenibile. Diciamo che la situazione in Italia era un po' un'anomalia nel contesto mondiale. L'Italia era l'unico paese che faceva un tracciamento dei contagi così con tamponi molecolari, così preciso, così puntuale, assolutamente esagerato. Tutti gli altri paesi avevano già stabilito delle norme di uscita fiss, più o meno fissa dal contagio e dall'isolamento e adesso l'Italia dedicando i tamponi antigenici che invece è andata un po' nella giusta direzione perché il sistema non era più sostenibile. Del resto il tracciamento del follow up con tampone molecolare portava al fatto che le persone potrebbero essere positive ancora diverse settimane dopo che non aveva senso più dal punto di vista epidemiologico perché sicuramente si tratta di persone non più contagiose, quindi tenerle ancora in isolamento era assurdo.